Buonasera a tutti, sono Luca di Scacciati di investire.biz mi vedete qua in piccolo nell'immagine del profilo del sito investire.biz in questo brevissimo video voglio presentarvi il corso che faremo questo mese tra pochi giorni, lo trovate come di consueto nella pagina dei corsi e dei webinar prevedere la borsa, la teoria del tutto che cosa faremo durante questo corso? esattamente come è possibile prevedere a grandi linee il meteo in una determinata zona a nostro avviso è possibile calcolare quello che sarà l'andamento della borsa delle valute piuttosto che di qualsiasi strumento finanziario vedremo proprio nel dettaglio come costruire la proiezione di borsa come vedere come costruire i prezzi futuri e impareremo chiaramente anche ad utilizzare queste proiezioni che sono esattamente come per chi va in macchina avere il navigatore quindi chiaramente non bisogna quando si va in macchina guardare solamente lo schermo del navigatore perché chiaramente si rischierebbe di fare un incidente non si vedrebbero le altre macchine, chiaramente non si vedrebbero i pedoni però soprattutto se non si conosce l'ambiente circostante il navigatore serve tantissimo esattamente quello che vedremo in questo corso dove impareremo a vedere appunto a tracciare queste proiezioni vedremo che cosa sono i frattali vedremo cosa sono i frattali uniti ai cicli di borsa vedremo come fare il calcolo frattale sul grafico orario e poi vedremo come di consueto tantissimi esempi pratici che vi renderanno davvero padroni di questa tecnica se volete approfondire vi invito ad andare in fondo al sito investire.biz cliccare sul tasto di youtube raggiungere il nostro canale e appunto vedere gli ultimi due webinar del lunedì dove appunto abbiamo parlato di questa tecnica e il motivo per cui facciamo questo corso è perché tantissime persone che hanno visto questi due webinar che trovate gratuiti sul sito di youtube appunto sul nostro canale ci hanno richiesto di fare questo corso io vi aspetto al corso che abbiamo in programma quindi a prevedere la borsa, la teoria del tutto vi invito appunto ad iscriversi sarà il giorno 26 marzo alle ore 17 e durerà circa due ore grazie a tutti mi raccomando non perdete questo corso stiamo mettendo tantissima energia per fare un corso di assoluta qualità mi raccomando non mancate grazie e alla prossima grazie a tutti